Musica Ospedale di Polla, dalle graduatorie regionali, la ricerca dei medici per il presidio ospedaliero. Casalbuono a debiti con il comune, Francesco Romano decade da consigliere. Rifiuti, costituzione subambito distrettuale ecodiano, in arrivo le prime delibere, apre Monte San Giacomo. Monte San Giacomo al professor Michele D'Alto, il premio San Giacomo d'Oro. Balneabilità in provincia di Salerno, le criticità segnalate dagli ultimi dati ARPAC. Buonasera, ben trovati con il nostro nuovo appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo di sanità e in particolare dell'ospedale Luigi Curto di Polla, perché nei giorni scorsi presso il presidio ospedaliero sono arrivati nuovi medici in servizio in diversi reparti, ma non bastano, servono altre otto figure professionali che l'aslo di Salerno intende reperire dalle graduatorie regionali. Personale medico in servizio presso l'ospedale di Polla resta la primaria necessità per garantire un servizio di assoluta efficienza. Nonostante i recenti arrivi di nuovi medici che negli ultimi giorni sono entrati in servizio presso alcuni reparti delicati del Luigi Curto, vi è ancora una grande emergenza e necessità in diversi altri reparti. Nei giorni scorsi sono entrati in organico ufficialmente con l'insediamento il dottor Aurelio Nasto, vincitore per pubblico concorso del primariato dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale, e il dottor Erminio Zerella, angiologo che ha preso servizio presso il reparto di Medicina Generale. In queste ore inoltre si è aggiunto in organico presso il reparto di Neurologia un tecnico elettrofisiologo per l'effettuazione di elettroencefalogrammi. Buone notizie ma non sufficienti a risolvere il problema di carenza del personale. Una situazione a cui si cerca di porre rimedio attraverso la nuova iniziativa dell'ASL di Salerno che punta a reperire il personale necessario per i diversi ospedali salernitani e quindi anche per il Luigi Curto di Polla, tra i nomi inseriti nelle graduatorie regionali. Nei prossimi giorni ci sarà una prima serie di assegnazioni di incarichi a cui ne seguirà un'altra il prossimo settembre. In totale sono otto le figure che si cercherà di individuare nelle graduatorie. L'ospedale di Polla necessita al momento di due medici per chirurgia, uno per il reparto di Neurologia, uno per il servizio di Dermatologia, un medico pediatra, un nefrologo, un radiologo e un medico per il reparto di Medicina Trasfusionale. Incarichi che si spera di riuscire ad assegnare attraverso la graduatoria regionale che però non può contare su una grande disponibilità. Difficile che si riuscirà infatti ad individuare tutte le figure di cui necessita l'ospedale. Bisogna tener conto che dalle graduatorie non si attingerà solo per l'assegnazione degli incarichi medici in servizio presso Luigi Curto, ma in tutti gli ospedali della provincia e della regione. Come è noto, il problema della carenza del personale non riguarda solo il presidio pollese, ma è di carattere endemico per tutto il territorio regionale. Da ciò è facile ipotizzare che diventa complicato poter individuare il personale medico necessario anche perché il medico individuato dovrà comunque accettare l'incarico. La politica a debiti con il comune quindi è incompatibile nel ruolo di consigliere comunale e quindi decade. Succede a Casa al Buono, protagonista della vicenda, l'avvocato Francesco Romano, candidato alla carica di sindaco lo scorso 26 maggio, era stato eletto tra le file della minoranza. L'avvocato Francesco Romano è decaduto dalla carica di consigliere comunale a Casa al Buono, a pendenze tributarie con il comune il che lo rende incompatibile al ruolo. La vicenda che lo ha visto protagonista è partita subito dopo le elezioni dello scorso 26 maggio. La prima seduta di consiglio comunale, quella di insediamento, non mancò di riservare sorprese. Al momento della convalida degli eletti fu sollevata l'incompatibilità per lui sulla base dell'articolo 63,4 del TUEL che individua le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo. In sostanza si disse che non avrebbe potuto rivestire il ruolo di consigliere a causa di una pendenza tributaria con l'ente. Gli furono concessi dieci giorni per produrre le sue contradduzioni da valutare nel consiglio comunale successivo o per eliminare la causa dell'incompatibilità. La memoria di deduzione di Francesco Romano è arrivata puntuale ma quando l'assise si è riunita lo scorso 4 luglio non l'ha ritenuta esaustiva. Decidendo a quel punto di concedere ulteriori dieci giorni perché saldasse il debito. Ad oggi, si legge nella delibera del consiglio comunale tenutosi ieri sera, scaduto il termine assegnato non risulta acquisito da parte del signor Francesco Romano alcun riscontro formale nel risulta essere avvenuto il pagamento dei debiti accertati, contestati e ingiunti regolarmente notificati. È stata quindi deliberata la decadenza del consigliere romano con sette voti favorevoli e due contrari. I consiglieri Biagio Mangue e Massimo Pace non concordano con quanto stabilito dalla maggioranza e consegnano anche una nota per chiarire la loro posizione rispetto all'intera vicenda che comunque non può dirsi terminata in quanto contro la decisione è previsto di poter ricorrere al tribunale competente. Parliamo ora di rifiuti. Lo scorso 2 luglio in un incontro in provincia di Salerno è stata lanciata l'ipotesi della costituzione di un subambito distrettuale denominato Eco Diano per lo smaltimento dei soli rifiuti del Vallo di Diano, un'ipotesi che fa già registrare le prime adesioni con il comune di Monte San Giacomo che ha già deliberato. I comuni valdianesi iniziano a dare il loro consenso all'adesione al nuovo subambito distrettuale per la gestione dei rifiuti. Nelle scorse settimane quasi tutti i comuni valdianesi, solo tre le eccezioni, si sono ritrovati con i loro rappresentanti presso la sede della provincia di Salerno per un incontro con il presidente dell'ente ambito Giovanni Coscia organizzato dal consigliere provinciale Giovanni Guzzo per la costituzione di un subambito distrettuale denominato Eco Diano e che opererà proprio nell'ambito della gestione dei rifiuti per ottimizzare il ciclo di smaltimento. Attraverso la costituzione del subambito, ciascun'area territoriale sarà chiamata ad occuparsi della raccolta dello smaltimento dei rifiuti prodotti nei comuni di riferimento e ciò impedirà anche il verificarsi di situazioni di emergenza con alcune aree chiamate poi ad occuparsi dello stoccaggio di rifiuti di altri territori. Un'ipotesi che durante l'incontro in provincia è stata accolta positivamente da diversi sindaci e rappresentanti dei comuni presenti che hanno da subito dato la disponibilità ad aderire al nuovo subambito Eco Diano. Ed ecco che iniziano già per venire le prime adesioni attraverso le delibere di consiglio come il caso del comune di Monte San Giacomo guidato dal sindaco Raffaele Accetta che lo scorso 23 luglio si è riunito proprio per l'approvazione della costituzione del subambito distrittuale Eco Diano demandando alla comunità montana di procedere per la costituzione del nuovo organismo. Una decisione che come si legge nella delibera essendo coerente con l'organizzazione territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti e rispondendo all'obiettivo di raggiungimento dell'economia di scale per l'ottimizzazione del ciclo sui rifiuti oltre a rappresentare una modalità ottimale per lo svolgimento dei servizi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti è stato approvato con voti unanimi. Dopo il comune di Monte San Giacomo si preparano ad approvare la costituzione del subambito distrittuale anche altri due comuni. Infatti anche le amministrazioni comunali di Polla guidata dal sindaco Rocco Giuliano e di Sant'Arsenio del sindaco Donato Pica hanno provveduto alla convocazione dei consigli comunali a Polla il prossimo 30 luglio a Sant'Arsenio il 29 luglio nel corso del quale i consiglieri saranno chiamati all'approvazione della costituzione del nuovo ente. La cronaca percepiva dal 2014 la pensione del nonno morto è successo a Oliveto Citra e a scoprire la truffa i finanzieri del comando di Eboli hanno quindi dato esecuzione ad un sequestro preventivo per equivalente pari a 66 mila euro. Le indagini hanno permesso di appurare che il raggiro è stato possibile approfittando del fatto che a campagna comune dell'ultima residenza del nonno deceduto nessun funzionario avesse provveduto a comunicare l'avvenuto decesso dell'uomo attraverso il sistema informatizzato. Intanto l'indagato aveva completamente svuotato il conto corrente cointestato i militari hanno quindi sequestrato per equivalente quote societarie un autoveicolo e le poche disponibilità finanziarie. Andiamo ora a Monte San Giacomo in occasione della festa patronale a Monte San Giacomo ieri sera è stato consegnato il premio San Giacomo d'oro dell'Associazione San Giacomesi per i Santi Giacomo e Anna al professor Michele D'Alto cardiologo di fama internazionale è andato al professore Michele D'Alto cardiologo di fama internazionale il premio San Giacomo d'oro istituito dall'Associazione San Giacomesi per i Santi Giacomo e Anna ieri sera la consegna in occasione della festa patronale è un riconoscimento ispirato ai valori della solidarietà e dell'altruismo è conferito a chi con opere di beneficenza o attività culturali o per meriti professionali ha portato in alto il nome di Monte San Giacomo nel mondo e proprio per meriti professionali è stato assegnato a Michele D'Alto Sì ma sono contento emozionato è qualcosa di diverso completamente diverso dai riconoscimenti dai premi da qualche onorificenza che ho ricevuto da un punto di vista professionale questo è un po' un atto d'amore quindi mi colpisce nel cuore un po' non solo in maniera figurata è veramente sono orgoglioso perché si dice nemo profeta in patria forse non è così l'affetto l'amore la dolcezza che mi riservano le persone di questo posto in cui ho le mie radici non ha uguali quindi veramente è un premio graditissimo Penso che lui sia stato molto felice non solo per il riconoscimento professionale ma soprattutto per il riconoscimento affettivo perché il proprio paese è come un grembo materno è una sorta di maternità più ampia e lui ogni volta che viene è felice sereno quindi il premio l'avrà apprezzato anche per questo da qualche mese Michele D'Alto è membro della prestigiosa società americana di cardiologia professore universitario responsabile del centro per l'ipertensione polmonare della cardiologia al Monaldi di Napoli dove d'allievo è diventato maestro confermandosi uno dei massimi esperti della malattia a livello mondiale dirige convegni nazionali e internazionali di medicina membro di diverse società scientifiche e autore di centinaia di pubblicazioni un'eccellenza riconosciuta figlia della comunità san giacomese che ieri sera era vicino a lui e alla sua famiglia per condividere il momento con emozione e orgoglio il dottore Michele D'Alto è veramente una persona straordinaria molto umile alla portata di tutti veramente sta raggiungendo traguardi straordinari nel suo campo nel campo della medicina nel suo campo della ricerca ormai nel mondo ci rappresenta insomma lo vediamo spesso nei congressi in Cina Giappone Stati Uniti con la sua attività veramente ci rappresenta nel modo migliore e quindi questo è anche un modo per dare inizio alla concessione di questi premi ai san giacomesi che nel mondo si distinguono per la loro attività per noi è un orgoglio per noi san giacomesi perché è sicuramente una cosa importante per il paese per la nostra comunità ripeto noi abbiamo coinvolto tutte le altre associazioni sia per quanto riguarda quelle di Monte San Giacomo e anche quelle che risiedono fuori come in America in Svizzera eccetera e dopodiché abbiamo insieme a loro pensato diciamo il dottore d'altro e speriamo che poi questa cosa sicuramente noi faremo di tutto per continuare perché i meritevoli sono tanti che abbiamo la fortuna di avere tante persone meritevoli sono stati presentati ieri sera nel corso di un convegno dal titolo i beni comuni minori tra incuria e valorizzazione i dati relativi al primo anno della nuova gestione nata dall'accordo di valorizzazione tra il polo museale della Campania e il comune di Padula e il comune di Padula e all'affidamento dei servizi museali al concessionario il consorzio Artemnet dati che dimostrano come nell'ultimo anno il sistema museo abbia registrato un'importante crescita in termini di visite in particolare c'è stato un incremento del 30 e 32% dei visitatori paganti nel periodo luglio 2018 giugno 2019 il migliore risultato dal 2011 e un aumento del 29 e 40% degli introiti per il MIBAC risultati raggiunti grazie anche all'impegno congiunto dell'amministrazione comunale del polo museale e dell'assessorato al turismo della regione Campania come ha spiegato la direttrice della certosa di San Lorenzo Tommasina Budetta dopo i saluti del sindaco di Padula Paolo Imparato è stata l'assessore Filomena Chiappardo a presentare i dati del primo anno della nuova gestione facendo anche un riferimento all'adesione della certosa al progetto Campania By Night per le aperture serali abbiamo tanto ancora da fare ne siamo convinti consapevoli con il sindaco ci confrontiamo continuamente continuiamo a lavorare ma siamo sicuri che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta voglio soltanto ringraziare tutte le persone che quotidianamente lavorano per Padula Sistema Museo è un lavoro sinergico corale e ci tengo che passi questo messaggio oggi qui tra i tanti autorevoli ospiti insieme ovviamente alla direttrice al sindaco abbiamo esponenti anche dell'università Bocconi che sono interessati ad approfondire quello che è il progetto gestionale nato in sinergia con il nostro segretario comunale voglio anche ricordare che di consultare il sito Padula Sistema Museo padula.eu dove trovate in modo dettagliato tutte le informazioni sugli orari sui siti che sono oggetto dell'accordo di valorizzazione per cui tutto questo fatto alle porte di agosto vi invita ad essere presenti agli eventi e a visitare sempre più numerosi le bellezze di Padula La cosa importante di questo incontro sia proprio illustrare uno strumento che è uno strumento innovativo di sinergia tra questo caso il polo museale della Campania che è competente sulla certosa di Padula e il comune c'è un accordo di valorizzazione che è stato sottoscritto tra il comune di Padula e il polo museale che ha registrato proprio un cambiamento rispetto a quella che è la promozione in termini contemporanei non solo della certosa ma di tutto il territorio del comune di Padula questa diciamo sinergia noi come polo museale sicuramente ma anche diciamo per le competenze specifiche è anche stata costruita con l'assessorato regionale tant'è vero che le prime iniziative sono state quelle di aprire tutti i luoghi della certosa che erano rimasti chiusi martedì prossimo 30 luglio alle ore 18 presso la sala delle conferenze dell'università popolare dell'accilento a torre orsaia si terrà un incontro formativo per gli avvocati ma di particolare interesse per la comunità nel corso del quale si parlerà di etica e diritto un tema che sarà affrontato con importanti relatori ed esponenti del mondo giudidico l'evento organizzato dall'associazione interparlamentare dei cultori dell'ordine dei cultori dell'etica con il patrocinio oltre che dell'associazione dell'università popolare del cilento e anche del consiglio dell'ordine degli avvocati di vallo della lucania prevede anche la presenza del senatore leo bore autore del libro la giustizia in italia sarà proprio il volume scritto dal senatore bore da cui si partirà per l'esposizione della tematica oggetto del convegno parlando di alcuni dei casi che hanno visto protagonista proprio l'autore del libro nella sua veste di avvocato penalista analizzando diversi casi che hanno anche visto come protagonista l'area del vallo della scusate della provincia di Salerno e non solo oltre naturalmente a casi di interesse nazionale ed internazionale ne abbiamo parlato con il senatore leo bore ascoltiamolo la giustizia in italia è un'idea che è venuta fuori dopo aver raccolto i 40 casi giudiziari dei quali mi sono occupato da penalista nei miei primi 40 anni di attività professionale sono casi originali singolari e interessanti nel loro genere perché spazia il libro da vicende internazionali e ancora coperte da segreti quali quella relativa al processo degli attentatori al Papa io ero nel collegio di difesa di Musa Sertar Celebi che era il capo dei lupi grigi il capo carismatico di questa associazione ad esempio ci sono i misteri e segreti ancora legati alle vicende di Moro dopo molti anni ancora irrisolti e di questo parlerà anche il procuratore Donadio Gianfranco Donadio che prima di guidare la procura di Lago Negro è stato consulente della commissione d'inchiesta sulla vicenda di Moro che ha concluso i lavori l'anno scorso ma tante altre vicende anche di processi ordinari per la verità tutti importanti di omicidi tentati omicidi le vicende di Tortorella di Amato di Tortorella le vicende di Policasso Bustentino e vari altri casi di di ordinaria criminalità è l'occasione per parlare di giustizia attraverso 40 vicende giudiziarie e quindi tra luci ed ombre di inchieste che si concludono positivamente ai tanti misteri dei casi risolti i due omicidi ancora impuniti del Lago Negrese la scomparsa della maestrina di Lago Negro e dell'imprenditore del Lago Silino insomma il Consiglio e l'Ordine degli Forenzi di Vallo che ha patrocinato questo convegno riconosce agli avvocati che saranno presenti ma non solo quelli del Foro di Vallo anche di altri ordini e tre crediti formativi riconoscendo per come dire l'autorevolezza dei relatori che interverranno modererà il dottor Milone che è l'attuale direttore di Rai Vaticano e concluderà Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia che è Vescovo di Termi ma anche Presidente della Pontificia Accademia per la Vita E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria restate con noi torneremo tra pochissimo Bentornati alla seconda parte del nostro TG l'ARPAC ha concluso i controlli sulle acque marine del Salernitano per il mese di luglio ma vediamo cosa è emerso l'ARPAC agenzia regionale per l'ambiente della Campania ha concluso i controlli sulla balneabilità delle acque marine per il mese di luglio 328 i punti monitorati e oltre alle operazioni ordinarie sono stati svolti 81 prelievi di altro tipo con tutti i risultati che verranno diffusi nei prossimi giorni in provincia di Salerno nel periodo in esame si sono registrati valori eccellenti limiti normativi nelle acque riperose nel comune di Monte Corice rientrati con il successivo prelievo effettuato nello stesso punto e in tutti i punti a distanza crescenti da esso inoltre dopo le segnalazioni della presenza di sostanze apparentemente schiumose e melmose di colore marrone nei tratti di mare prossimi al Vallone Arena sempre a Monte Corice e alle spiagge di Acceroli e Pollica sono state effettuate ispezioni che non hanno evidenziato anomalie sono rientrati nella norma anche valori oltre il limite di legge registrati a Testene nel comune di Agropoli persistono invece criticità a Marina di Vietri secondo tratto sud Picentino a Ponte Cagnano Faiano ed est fiume Irno a Salerno si tratta di aree che risentono dell'influenza della foce dei fiumi Bonea Picentino e Irno in particolare un superamento dei valori limite di legge per enterococchi intestinali un indicatore di contaminazione fecale si è registrato nel comune di Capaccio nel tratto di Cinella qui sono in corso indagini per comprendere le cause della contaminazione probabilmente identificabile nella presenza della foce del corso d'acquatorre o in problemi dell'impianto di sollevamento fognario Torre di Mare Il regista Nanni Moretti sarà l'ospite d'onore dell'edizione di quest'anno del Tocufilm Festival a Sala Consilina si parte domani sera alle ore 20 e 30 la rassegna cinematografica di cortometraggi nazionali ed internazionali che nasce dalla collaborazione di un gruppo di ragazzi appassionati del cinema ospiterà domani il noto regista che presenterà il suo ultimo docufilm dal titolo Santiago Italia oltre altro ospite atteso del festival sarà per domenica 28 luglio l'astronascente Linda Caridi l'anno scorso incoronata migliore attrice emergente a Venezia con il nuovo Imae Talent Award i cortometraggi che si sono iscritti al festival saranno giudicati da una giuria composta da esperti del settore quali Gianfranco Pannone Marta Giovannetti e Nicola Calandriello che saranno chiamati a questo difficile compito di decretare poi i vincitori del concorso La cultura e i libri nuovo appuntamento a stanza con Librando per domani sera in piazza protagonista il giornalista e redattore di TV 2000 Luigi Ferraiolo con il libro Don Peppe Diana e la caduta di Gomorra Il giornalista e redattore di TV 2000 Luigi Ferraiolo sarà il prossimo protagonista di Librando la rassegna letteraria che sta aglietando le serate estive a Sanza Don Peppe Diana e la caduta di Gomorra il titolo del libro che sarà presentato sabato 27 luglio in piazza Plebiscito dalle 20 a 30 un racconto della caduta di Gomorra innescata dal martirio di Don Giuseppe Diana ne discuteranno con l'autore e l'assessore alle politiche sociali del comune di Sanza Marianna Citera il sindaco Vittorio Esposito il parroco Don Giuseppe Spinelli e il responsabile Caritas Don Vincenzo Federico attesa la presenza anche del vescovo della diocesi dite Giano Policastro Monsignor Antonio De Luca a fornire gli spunti di riflessione sarà il giornalista Lorenzo Peluso un bel libro che mette al centro La vita e il pensiero di Don Peppe Diana che il 19 marzo 1994 fu assassinato dalla Camorra in quegli anni una piccola parte del casertano era alle prese con la rivolta culturale e umana di una piccola fetta di residenti che cominciavano a creare un mondo diverso con cooperative sociali di ragazzi disabili o disagiati o ex detenuti realtà che poi sono diventate ristoranti o vere e proprie imprese un impegno che dopo 25 anni comincia a diventare evidente e che si oppone al ritorno concreto della Camorra non solo nel casertano ma nel resto d'Italia un appuntamento dunque interessante sabato a stanza con Librando e con un autorevole giornalista Luigi Ferraiolo diventato professionista al Corriere della Sera Corriere del Mezzogiorno autore di diversi altri volumi e vincitore del premio Giordano per il miglior saggio ecclesiale italiano nel 2014 ha inoltre realizzato tre docufilm tra cui quello sulla profezia del ritorno a Pietralcina dopo 100 anni di Sampio campione di incassi su TV 2000 la Maro Teggiano sarà protagonista speciale della serata di domenica prossima 28 luglio a Teggiano per la presentazione di squisiti cocktail l'evento che si terrà in piazza San Cono a Teggiano presso il locale La Dispensa sarà luogo di bontà e divertimento grazie alla serata organizzata proprio in onore dell'Amaro Teggiano che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre maggior successo riuscendo anche ad esaltare e diffondere il nome della città medievale anche al di fuori dei confini territoriali a partire dalle ore 19 sarà in particolare il Lux Dianensis il liquore a base di mertillo con fighi bianchi scusate e uvetta sultanina dedicato a San Cono il protagonista assoluto per la presentazione del cocktail realizzato dallo staff del Trianon City Bar di Sala Consilina la serata proseguirà successivamente che sarà anche occasione per degustare una grande varietà di cocktail tutti realizzati utilizzando come ingrediente base proprio l'Amaro Teggiano successivamente si entrerà nel vivo della serata presso la dispensa quando il locale presso la sede nel centro storico di Teggiano sarà possibile trascorrere la serata di divertimento ma anche di gusto con i ricchi apericena squisiti antipasti tutti accompagnati dalla degustazione di ottimi vini a Sala Consilina si è svolta la cerimonia di saluto dell'amministrazione comunale per Ivan Robilotta della sezione arbitri di Sala Consilina neopromosso della serie B grande soddisfazione per l'importante risultato raggiunto dal tesserato della sezione A e da parte dell'amministrazione comunale grande soddisfazione per la sezione arbitri di Sala Consilina e per tutto il Vallo di Diano per la promozione in serie B di Ivan Robilotta che ieri ha ricevuto i complimenti dell'amministrazione comunale nel corso di una cerimonia di saluto alla presenza del sindaco Francesco Cavallone e dell'assessore con delega allo sport Elena Gallo l'evento si è svolto presso il polo culturale Cappuccini Ivan Robilotta a 31 anni ha cominciato da giovanissimo a scalare le categorie fino ad arrivare alla Lega Pro dove è rimasto 5 anni al termine di quest'ultima stagione dove ha diretto importanti gare è giunto alla meritata promozione in serie B originario di Villa D'Agri in Basilicata Ivan Robilotta è stato scelto tra i 5 che sono stati promossi nella serie cadetta ed è l'unico della campagna una passione di famiglia in quanto anche i genitori di Ivan sono stati arbitri e lo è anche il fratello Manuel assistente che vanta due presenze in serie A nel corso della cerimonia alla quale erano presenti anche il presidente della sezione AIA di Sala Consilina Gian Piero Cafaro e il delegato FIGC Gerardo Lobosco Robilotta ha ricevuto un dono dall'amministrazione comunale un affischietto con il logo del comune e la B della promozione è un bel momento per Sala Consilina ma in realtà per l'intero comprensorio avere un arbitro della sezione di Sala Consilina giunto in serie B è per noi motivo di orgoglio e siamo certi che è motivo di orgoglio per l'intero territorio Ivan non nasce qui è originario della Val d'Agri ma ha scelto la nostra sezione per il suo cammino professionale e il nostro vuole essere un grande in bocca al lupo per il suo percorso noi siamo certi che i risultati saranno sempre maggiori sempre migliori e Ivan so che ha capito bene che qui troverà una sua seconda famiglia Sicuramente un risultato prestigioso per il mondo arbitrale di Sala Consilina che ha festeggiato lo scorso anno i suoi primi 40 anni Ivan Robilotta è la punta massima di questa associazione un risultato straordinario conseguito da una piccola sezione perché ricordiamo è una sezione periferica della Campania ma che negli ultimi anni sta ottenendo risultati prestigiosi tra l'altro il fratello Manuel Robilotta ha raggiunto anche la serie A anche se da assistente ora il fratello prova a raggiungerla da arbitro principale e ora ha ottenuto questa serie B che va a gratificare tutto il movimento non solo arbitrale ma dell'intero monto calcistico e quindi un plauso va anche da parte della delegazione della Federcalcio Sala Consilina Valoridiano La musica al Via Domani a Sant'Arsenio il campus musicale dello spettacolo tante novità ed ospiti d'eccezione come spiegato ai nostri microfoni da Gerardo Costa di questa seconda dipondamento perché aprile ce n'è stato già uno e abbiamo riscosso un sacco di successo la prima cosa è che abbiamo raddoppiato gli iscritti poi abbiamo una bella novità perché ci sarà il 28 sera Franco Fasano insieme a Mario Brangaccio che è un attore teatrale Franco Fasano è un autore compositore cantautore lui ha scritto mi manchi ti lascerò ho fatto le musiche per questi grandi brani per dieci anni hanno dominato il festival di Sanremo ha scritto io amo per il fausto Leali e attualmente è direttore artistico dello Zecchino d'Oro e del premio Amia Martini quindi è un personaggio davvero importante nel panorama musicale lui a parte questo è un carissimo amico e quindi da noi veramente si è creata una famiglia e i ragazzi queste cose le sentono perché siamo stati a Firenze a un altro appuntamento con l'associazione Pippolatico che fa parte anche della nostra organizzazione e lì abbiamo conosciuto tanti ragazzi che entusiasti del cast dei coach che ci saranno si sono iscritti immediatamente e arrivano gente dalla Sicilia da tutta la Sicilia Siracusa Grigento Catania dalla Calabria a Catanzano la Venezia Terme Praia Amare che è più vicina e addirittura scendono da Firenze una quindicina di ragazzi si sono iscritti da Firenze quindi adesso noi oltre a questo appuntamento abbiamo anche degli appuntamenti importanti come Canto Italiano dove stiamo proprio in questi giorni preparando i ragazzi ed è un appuntamento importantissimo perché lì organizza addirittura la SIAE e il premio quest'anno è di 15.000 euro l'anno scorso noi siamo arrivati secondi abbiamo vinto un bel premio e siamo fiduciosi perché molti dei nostri ragazzi sono iscritti li abbiamo già iscritti con gli inediti con le cover e quindi davvero ci sono tante cose oltre al campus che il campus serve solo a formare poi dopo serve dopo la formazione cerchiamo di far emergere questi ragazzi molti sono talentosi io con l'allora Mondoprono Festival ne abbiamo scoperti tanti oggi li vedo in giro per i locali a suonare però finisce lì e non è così non deve essere così perché dietro di loro bisogna creare un progetto se c'è il progetto si va avanti senza il progetto non si va da nessuna parte ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti